Ciao, bambini! Sono la maestra Teresa. Che festa sarebbe senza filastrocca? Quindi poniamo rimedio! E Pasqua! Le uova sorpresa, le rondini e i fiori, rallegrano la Pasqua di mille colori. Ma il dono più bello lo fa il Redentore portando a tutti la pace nel cuore. Un abbraccio e un caloroso augurio a tutti. Ciao!